Non c'è prezzo e ostacolo che tenga pur di mantenere la tradizione del primo dell'anno e il tuffo a mare dei baresi, che hanno sfidato persino il divieto di balneazione scattato all'alba dopo una notte di piogge che ha causato l'apertura degli scarichi nei pressi di pane pomodoro. Al culmine della marcialonga nicolaiana, 5 km con partenza dalla Basilica, il gruppo dei 200 irriducibili guidati da bersaglieri e da biciclette d'epoca hanno raggiunto la spiagge si sono buttati in curanti di cartelli e raccomandazioni dei vigili urbani. No, qui non c'è divieto, non c'è nessun segnale di divieto in questa zona qua. Dico perché lo avete fatto comunque? Per dare un segnale che vogliamo una città pulita, una spiaggia pulita, fruibile, tutto l'anno. Questo divieto ci ha incentivato a fare il bagno per sensibilizzare anche le future amministrazioni. Cosa rappresenta questo? Questo è un apre magic, simbolo diciamo del profumo che intendiamo dare noi, di odorare questo mare sporco che le amministrazioni diciamo non ci tolgono questo sversamento di liquami.